Il grande successo per la presentazione di questo libro e della successiva mostra dedicata allo stadio Tardini è tutto organizzato da PPC, insomma un esempio del vostro attivismo. Certo, abbiamo fatto questa iniziativa perché crediamo che sia importante anche per il centenario dello stadio e quindi ci sembrava anche opportuno informare i soci di questa iniziativa. Sono stati contenti perché sono stati numerosi, c'è stato anche il rappresentante della società, quindi il direttore dell'area tecnica Viennes, quindi siamo contenti della partecipazione. È stata una giornata felice perché c'è stata non solo la presentazione del libro che è diventata una sorta di catalogo della mostra, ma anche avete fatto vivere agli associati l'atmosfera magica del Tardini accompagnando l'in-tour spogliatoi, museo. C'è sempre un certo fascino. Tutte le volte che organizziamo questa iniziativa pensiamo, ma magari stavolta non verrà gente, invece c'è sempre entusiasmo, c'è sempre un sacco di partecipazione perché ha sempre un fascino. Poi siamo riusciti anche ad andare in campo, quindi calcare il terreno del Tardini è sempre piacevole. Ascoltando le parole del professor Gian De Biaggi, dell'architetto Gian De Biaggi, abbiamo scoperto che il dibattito sul Tardini è sempre stato aperto, anche negli anni passati, e quindi la storia si ripete anche oggi. Diciamo che a livello non è cambiato niente da quel punto di vista, diciamo che ci sono sempre i pro e i contro in tutte le cose e quindi ci fa un po' anche un po', diciamo, come si può dire, dai, non è proprio questione di oggi allora. E il tuo pensiero? Beh, insomma, sono pro stadio al 100%, quindi quando un personaggio, un imprenditore privato mette del suo capitale a beneficio anche della città, diciamo che è da scelerati di Alivino. Grazie mille. Prego. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. 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 L'opera sarà abbastanza maestosa, però il nome rimarrà così come penso accadrà e come è accaduto in tanti altri stadi italiani che hanno mantenuto il nome storico, anche se ora vengono chiamati con il nome dello Stonso. A livello, a livello toponomastico ci aspettiamo che il comune mantenga il nome di Lenio Tardino. Cerca il progetto c'è stato un po' di dibattito? Diciamo che gli stadi oggi sono una priorità per tutte le squadre di calcio, soprattutto quelle della Serie A, lo vediamo da quello che avviene nei paesi esteri, dove comunque lo stadio di calcio non è solamente il luogo delle partite, ma è un luogo per generare business, ricavi che sono sostenibilità poi sportiva per le squadre. Io non sono entrato nel merito dell'architettonico del progetto, mi auguro che possa comunque rimanere al servizio della città come è stato questo impianto per cento anni. Verrebbe salvata la porta monumentale, certo che è il minimo credo per ricordare quello che è stato questo impianto. Mentre poi ricordiamo che qui all'interno protetto dalla struttura moderna di qualche anno fa c'è tutt'ora la vecchia tribuna centrale. Certo, assolutamente sì. Quindi è una struttura che quando è stata creata è riuscita comunque a mantenere viva la struttura per oltre cento anni. Due parole anche su questo libro che il professore Gian De Biaggi... Io ho avuto modo di leggerlo e di sentire dal professore, da Claudio Rinaldi e dagli altri autori la presentazione che è avvenuta il 9 di dicembre al Palazzo del Governatore, 9 dicembre dello scorso anno. Mi sembra un'opera molto ben fatta e che racconta sotto più punti di vista la storia di questo impianto. Grazie, grazie a voi. Dal libro ad una mostra, architetto insomma, grandi soddisfazioni nel nome dello stadio Agno Tardini. Abbiamo pensato, come spesso facciamo quando facciamo queste ricerche come dipartimento, di produrre anche una versione più allargata, più plurale, perché i libri meno male hanno tante pagine scritte e poche immagini e quindi sono mari meno accattivanti per un pubblico più vasto. La mostra ripercorre i capitoli del libro, quindi il libro farà anche da catalogo della mostra e quindi è divisi in sezioni che vanno prima dalla città del Novecento. È una città particolare che molti, ovviamente non ricordo ma che non conoscono, dove si effettiva una città nuova in grande fermione. Poi la parte di Agno Tardini, come era il salito della società, le cose che ha fatto. Poi tutto il dibattito, il progetto dell'attività costante, nuovo del 1923, ma ovviamente, ineguato poi nel 24, infatti, inauguriamo la mostra il 16 settembre del 24, che è la via dell'attività ufficiale federale, diciamo così, dell'attività poi del calcio. Ma raccontiamo tantissimi eventi che si sono svolti in questo luogo, essendo poi l'anfiteatro della città, quindi tantissimi eventi culturali, non solo sportivi, concerti, tante altre cose che sono svolti all'interno di questo catino e poi tanti sport diversi che molti non conoscono, non so quanti conoscono il tennis, conoscono il motociclismo, ecco, suolto dal Tardini, oltre a quelli che molti invece ricordano, ciclismo, atletica e tanti altri, rugby, ha giocato qua per ogni anno. Concludiamo con il progetto del nuovo stadio e un panorama degli stadi nazionali, europei e internazionali, il confronto tra lo stadio e la città e gli abitanti, perché a me interessa sempre queste cose che facciamo da architettura, come quelle di Cappagnone che abbiamo fatto due tre anni fa, oppure quelle precedenti, sugli organismi, mette in evidenza, oltre che il racconto delle architetture, dei luoghi urbani, e il rapporto tra le persone e i luoghi, tra le persone e le architetture si stabiliscono nei meccanismi, come tra una famiglia e la propria casa, e quindi dietro questo fiorum ci raccontiamo cent'anni di Tardini. E cent'anni dopo la storia si ripete, visto che insomma un certo tipo di dibattito, un certo tipo di feramento su quello che potrà essere il nuovo Tardini, ci ha accompagnato nell'ultimo periodo. Se parliamo di città, di urbanistica, di architettura, mi sembra normalissimo, cioè quando in una comunità si discute di un progetto così ampio, tenga presente che non esiste un altro luogo urbano dove in contemporanea vanno 20.000 persone, quindi è un decimo della città, nemmeno l'ospedale che è uno dei più grossi, ha tante persone contemporaneamente. Quindi è normale, vedrete che nel 1923 è stato uguale. C'è un gentista che presenta tre progetti, tre volte gli lo mozzano, si discute. Sono cose importanti, quindi necessitano un certo luogo urbano in una certa trasformazione. La cosa bella di allora era che appunto veniva fatto per una pluralità di sport. In questo secolo il calcio è prevalso rispetto agli altri sport, quindi necessita di uno spazio a lui dedicato, perché allora non era lo sport più popolare. La soluzione che si sta raggiungendo è di suo gradimento? Ma io non sono nessuno per esprimere un'opinione sul progetto, anche perché devo dire la verità, quello definitivo è in maniera al comune, alla società, io non l'ho ancora visto, abbiamo visto il preliminare e certo deve essere un organismo necessario per contenere eventi sportivi che nel frattempo sono cambiati molto. Mi auspico che ci sia anche un coinvolgimento dell'area, perché è sempre stato uno spazio importante, l'area attorno, lo stadio tra le muole e la città, perché sono spazi in genere urbani che servono anche alla città, non solo nel momento. Spero anche negli usi, appunto un'infrastruttura così importante, spero abbia anche altri usi, perché la città bisogna di questi spazi. Poi se sarà possibile ovviamente. A ricordare il vecchio Tardini rimarrebbe solo la monumentale. Rimane solo questo ingresso che è molto particolare, tant'è vero che noi nella mostra metteremo anche un plastico di monumento verde, perché abbiamo visto il monumento. e di conseguenza quello è quello che rimarrà. L'altra porzione, che è stata fortemente enormata degli anni, che è quella che rimane sotto, penso sia intenzione di levarla a bancario che la sopraintendenza ha dato il suo senso. Lei nel libro ricorda appunto come questo stadio si è entrato nel cuore di questa zona di Parma. Adesso mi viene in mente il Petitot. Si occhieggiano la porta monumentale. Come vedete il progetto di Ettore Leoni, che è l'architetto che l'ha progettato, ed è tutto organizzato, puntato sia a tutta la prospettiva, sia interna che esterna, prende il casinetto di Petitot come punto focale, quindi proprio l'organizzazione del progetto che è centrato su Petitot volontariamente. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il direttore dell'area tecnica Rul Ryans, grazie. Mario Tardini, nipote del mitico Regno, il direttore della gazzetta di Parma, Rinaldi, grazie. e l'architettor Gianni Biaggi che è l'autore del libro e anche della mostra, grazie adesso do la parola al direttore, un piccolo saluto della società, grazie grazie Paolo, buonasera a tutti buonasera a tutti, non sono preparato per dire qualcosa perché voglio solo essere qui per ringraziare l'autore per questo libro e di nuovo un esempio della storia del Parma Calcio con il club abbiamo una storia che tanti altri club non solo in Italia ma anche in Europa non abbiamo e dobbiamo essere, possiamo essere orgogliosi e adesso io sono orgogliosi di essere qui in un club con una storia e in un stadio penso che già io nella mia prima stagione ho visto qualche partita estraonaria con la ramonta contro il Palermo o le partite contro Pisa, Venezia che abbiamo vinto all'ultimo minuto penso che anche queste vittorie sono la cosa del stadio perché abbiamo un stadio particolare speciale che non è tipico italiano perché i tifosi sono veramente vicini al campo è un avvantaggio e loro non solo la curva Nord ma anche gli altri tifosi possono aiutare i giocatori e allora sono sicuro che tanti di voi hanno visto partite importanti e spero che in prossima settimana che abbiamo ancora due, solo due partite importanti e spero che possiamo continuare a avere il vostro supporto allora ancora congratulazioni all'autore e grazie a voi per essere qui per supportare il Parma Calcio adesso diamo la parola al Direttore che inizierà a spiegare un po' la serata grazie, grazie Paolo innanzitutto per aver organizzato questa bella giornata grazie a tutti voi di essere così numerosi, ci fa molto piacere perché quella che presentiamo è una bellissima iniziativa, ce lo diciamo da soli, c'è anche un pezzo di gazzetta anche se il curatore è il professor Paolo Zandeviaggi, architetto molto noto in città e un professor ordinario del nostro Ateneo che non è nuovo a eventi come questo e cioè di mostre e libri dedicati a un bel pezzo di storia della città questo che in parte è stato portato a termine del libro che potete vedere e in parte invece entrerà nel vivo da qui a pochi mesi e cioè tra la metà di settembre e la metà di novembre sarà allestita una grande mostra allo Stadio Tardini l'occasione appunto è celebrare questo pezzo di storia della città tra l'altro in anni in cui si incrociano anniversari vari perché nel 2023 è stata posta la prima pietra abbiamo celebrato il centenario della morte di Ennio Tardini di cui da qui a breve parleremo con Mario e naturalmente come sapete da qui a poco partirà anche un cantiere per il nuovo Stadio Tardini il viaggio che la squadra allenata diciamo così visto il luogo dove ci troviamo dal professor Gian De Biaggi ha fatto è un viaggio a 360 gradi intorno a questo monumento sportivo e non solo e quindi sia nel libro o meglio la ricerca che è stata fatta e che è stata declinata nel libro che è già uscito e sarà reclinata nella mostra invece che per ora è in fase di pensiero e di preallestimento ma che da qui a qualche mese vedrete è raccontare il Tardini davvero a 360 gradi quindi dal punto di vista urbanistico della collocazione di come si era dibattuto anche all'epoca io faccio qualche breve anticipazione ma poi entrerà più nei dettagli l'architetto di come si era dibattuto sul dove farlo, su come è stata scelta l'area, su come è stato scelto il progetto che ha portato alla realizzazione, alla posa della prima pietra Mario Tardini ha qui da mostrare un pezzo di storia cioè la foto originale dello scatto della posa della prima pietra dove però suo nonno non c'era perché essendo una persona che non amava troppo comparire si sfilò al momento in cui Marcello Pissari scattò questa foto che però resta storica e quindi del Tardini di allora si parla appunto di come l'architetto Leone l'ha pensato di come è stato scelto prima ancora che gli fosse appunto affidato il lavoro si parla anche di come in Italia, in Europa e nel mondo gli stadi sono inseriti all'interno del contesto urbanistico cittadino e si parla, non potrebbe essere altrimenti del Tardini come teatro delle più belle imprese del Parma che ci hanno fatto sognare e continuano a farci sognare non diciamo niente per scaramanzia ma tutti sappiamo cosa speriamo di vivere in questo stadio da qui a poche settimane e si parla però anche dello stadio come di teatro di imprese che col calcio non aveva nulla a che fare perché negli anni 50 qui si vincevano gli scudetti di rugby si tenevano sfide di ciclismo ad altissimo livello e si facevano anche tanti eventi extrasportivi la prima festa del 25 aprile per esempio è stata celebrata allo stadio Tardini e tante altre iniziative la Gazzetta ha dato una mano, ha collaborato all'evento diciamo perché insieme alla squadra dei collaboratori del Dipartimento di Architettura dell'architetto Gian De Biaggi anche alcuni giornalisti della Gazzetta appunto sono dedicati a studiare un pezzo della storia di Tardini io personalmente ho fatto un testo, un breve esagio sulla vita di Ennio Tardini è stato davvero un piacere riscoprire un personaggio che purtroppo troppi di noi conoscono poco e quindi mi fa molto piacere che il libro e la mostra aiuteranno contribuiranno spero decisamente a farlo conoscere di più perché non è solo quel gran personaggio che ha ideato lo stadio e al quale lo stadio è dedicato da allora ma è un personaggio che ha avuto un ruolo importantissimo nella città come ideatore della banca agraria, come anima dell'associazione agraria erano anni in cui si è fatto a Parma un certo sciopero agrario di cui tutta Italia ha parlato e Ennio Tardini è stato l'anima dell'associazione agraria che è stata appunto protagonista di questo epocale scontro per darvi un'idea la Domenica del Corriere ha dedicato copertine intere con disegni di Achille Beltrame allo sciopero agrario del 1908 a Parma e poi tantissime altre cose ma visto che c'è qui il nipote che conosce molto meglio di me la vita e la figura di Ennio Tardini chiederai Mario che fossi tu a ricordare in poche parole e ammesso che sia facile perché con tutto quello che ha fatto facile non è chi è stato tuo nonno Ennio Tardini grazie grazie e complimenti anche da parte mia a te e a Paolo per il bellissimo libro che io ho avuto modo di leggere dopo che abbiamo fatto l'incontro il 9 di dicembre al Palazzo del Governatore per ricordare prima al mattino i 100 anni della scomparsa del nonno e poi la presentazione del vostro libro quindi concordo pienamente con quello che hai detto il nonno Ennio come hai detto tu il nonno Ennio non è solo lo Stato di Tardini è stata una figura di riferimento dei primi del Novecento a Parma in ambito politico, economico e sociale era una persona eclettica, un uomo onesto, concreto che ha portato alla città idee innovative sapendo però realizzarle quindi ha avuto le grandi capacità di avere le idee innovative e all'avanguardia ma di realizzarle e realizzarle in tempi brevi che dire queste cose oggi con quello che succede per la costruzione del nuovo stadio sembra un po' una cosa anacronistica il nonno è stato avvocato uomo politico, giornalista segretario generale dell'associazione agraria direttore della banca agraria da lui creata e infine è presidente del Parma Calcio del Parma Football Club all'epoca proprio nel 1921 quando fu chiamato in mezzo ai suoi molteplici impegni a risollevare le sorti del Parma Calcio che in quel momento non navigava in buone acque diventando nel presidente la prima cosa a cui ha pensato è stato quello di realizzare lo stadio lo stadio per dare una casa alla squadra che in quel momento stava lagabondando come avete scritto voi da un campo all'altro della città senza avere una fissa dimora e non solo un campo da calcio perché pur essendo un signor campo da calcio con le misure regolamentari secondo gli standard internazionali dell'epoca il nonno l'aveva concepito come un impianto polisportivo quindi un impianto che fosse dotato di una pista di atletica per il ciclismo, per le moto la palestra, i campi da tennis quindi un qualche cosa che partendo dal calcio fosse a disposizione di tutti gli altri sport come motore trainante e come fruibilità da parte di tutta la città ma ebbe anche, come ho detto le capacità di, basate sulla sua credibilità di raccogliere diciamo gli imprenditori che investissero e mettessero le somme necessarie a realizzare questo impianto il presidente è che lui è diventato presidente nel 21 la posa della prima pietra tu citavi la foto questa è la foto originale della posa della prima pietra del 31 di dicembre 2022 quindi in poco più di un anno si posa la prima pietra e l'impianto viene inaugurato qualche mese dopo la sua scomparsa che è venuta il 16 agosto del 2023 era un liberale servo sostenitore della proprietà del diritto di proprietà della libertà imprenditoriale quindi un uomo veramente all'avanguardia vicino anche ai giovani dell'epoca perché ha realizzato anche e Paolo lo ha ricordato in maniera molto personale la palestra Umberto I nell'oltre torrente perché credeva che l'educazione fisica e lo sport a quell'epoca fossero elementi fondamentali nell'educazione dei giovani e creare una struttura di quel tipo nell'oltre torrente che a quell'epoca era sicuramente una zona difficile della città aiutava a togliere dalla strada i giovani e a insradarli verso un futuro migliore io ringrazio tutti quanti ringrazio in nome dei miei fratelli Alberto Egno e Maria Grazia di tutta la nostra famiglia per averci invitato ringrazio per una partecipazione calcistica e Paolo Benecchi l'amministratore delegato e lascio la parola a voi per le altre parti grazie grazie e complimenti perché sei riuscito a fare una sintesi davvero di quel personaggio straordinario che è stato Ennio Tardini Paolo io se l'ho fatto ho dato come dire un'infarinatura di quello che si trova nel libro e soprattutto si troverà nella mostra però a te la parola per entrare un po' più nei dettagli di come stai pensando questo progetto per chi non lo sapesse qualcuno ci ha già sentito presentarla e dico sempre che non è ho già detto che non è la prima iniziativa anzi ne ha fatto tante l'architetto Gian De Biaggi e il filo comune il comune denominatore è il grande successo che hanno sempre avuto queste iniziative mostra più libero il record è stato toccato dalla mostra dedicata ai Capannoni che ha portato 22.000 persone al Palazzo del Governatore il format è lo stesso questa noi ci aspettiamo che le porterà anche di più perché i Capannoni sono un pezzo di importanza straordinaria della storia di Parma ma al Tardini tocca davvero tutti noi e non solo noi tifosi di calcio quindi a te la parola per raccontare un po' come sarà questa mostra che sarà gratuita aperta al pubblico e tante altre cose che ci aspettiamo che adesso ci racconti a te allora grazie di averci invitato e grazie a Claudio delle parole sempre generose che ha avuto e anche a Mario Tardini in realtà io ho curato un libro non ho scritto un libro è un libro a più mani il curatore fa un po' l'allenatore visto il luogo in cui siamo ovviamente abbiamo organizzato questa cosa e devo dire che l'abbiamo pensata proprio durante la mostra dei Capannoni quindi è una ricerca che dura da tre anni perché occorre il tempo per fare le indagini scruttare gli archivi andare a trovare il materiale come dipartimento dell'università abbiamo questa abitudine non di dare opinioni ma di trovare materiale mettere lì delle documentazioni comprovate e poi diffonderle fare cultura oltre alla didattica ricerca che l'università fa in modo obbligatorio per quello che tutti conosciamo ma in realtà l'università deve fare anche si chiama terza missione cioè poi calare sul terreno quelle che sono le ricerche che svolge e diffonderle in più possibile secondo questo format ne abbiamo fatto ormai tante anche molto prima dei Capannoni sugli organismi religiosi a noi interessa molto mettere a disposizione questi studi non solo per dare informazioni ma perché occupandoci di architettura di città di urbanistica vogliamo che passi che noi facciamo questo mestiere studiamo queste cose cresciamo persone all'interno dell'università degli specialisti per far star bene le persone troppo spesso l'architettura viene declinata nell'edificio del famoso architetto piuttosto che di questa città ma il nostro obiettivo come quello dei medici come quello di qualunque altra professione e quindi cerchiamo di mettere in evidenza quanto i luoghi urbani condizionino la nostra vita in positivo oltre in negativo ma insomma la relazione tra le persone e i luoghi guardate quando si cambia di recente è stata demolita una scuola storica c'erano le persone che piangevano perché quando questi luoghi vengono toccati toccano la nostra storia quella dei nostri genitori e molto spesso queste cose si perdono e torneremo anche sul dibattito cioè è assolutamente normale che ci sia dibattito su infrastrutture di questo tipo perché sono luoghi di tutti sono luoghi molto partecipati ecco questo è l'intento di queste ricerche non arriveranno delle altre ne stiamo già pensando alla prossima e visti i cent'anni e pensavamo fosse opportuno raccontare e dare un mucchio di informazioni e quindi grazie a tutti quelli che hanno scritto dentro il libro sia docenti universitari che collaborano con me nei corsi universitari ma anche ai giornalisti della gazzetta di Parma che hanno insieme a noi quindi è sempre molto generoso insieme perché vogliamo fare queste cose sempre con altri per usare anche un linguaggio un po' meno accademico un po' più e soprattutto con chi ha informazioni così abbiamo fatto anche altre volte qua il detentore di gran parte delle informazioni delle immagini delle foto di questi cento anni era la gazzetta di Parma e quindi a loro ci siamo rivolti per fare insieme questo lavoro bene il libro è a disposizione già da Natale come diceva li presentiamo a Natale perché sapete che a Natale si vendono i libri quindi se uno salta un Natale dopo ne vende molto meno ovviamente immaginatevi i nostri cespiti personali sulla vendita del libro ma i libri sono l'approfondimento ed è per quello che cerchiamo di farli prima perché lì trovate molte informazioni sono 200 pagine di testo quindi non sono proprio poche però ci sono poche immagini perché costano le immagini dentro un libro per quello facciamo a distanza un po' di tempo quando le persone possono avere se interessate preso queste informazioni la mostra che è il contrario a moltissime immagini non solo e poco testo e questo fa sì che molte altre persone acquisiscano le stesse informazioni senza neanche preoccuparsi troppo di leggere tutto chi poi vorrà approfondire il libro fa da catalogo questa è la filosofia con cui ci muoviamo Tardini sono otto capitoli che finiranno in otto sezioni della mostra allora la mostra si svolgerà il 16 di settembre viene inaugurata il 16 di settembre del 2024 perché l'ha già detto forse Mario Tardini abbiamo voluto presentare il 23 perché erano i 100 anni della costruzione l'inizio della costruzione in realtà la prima pietra viene posata il 31 dicembre del 22 ma insomma il 23 è l'anno della costruzione dei Tardini ufficialmente il campo prende a Rio nel settembre del 24 quindi abbiamo voluto prendere tutti e due i 100 anni il primo con il libro il secondo la mostra e il 16 di settembre perché erano Tardini e Motti il 16 di agosto 30 giorni dopo nel 23 viene fatta una celebrazione epocale che non so quanti vedrete le immagini viene portato il ferretro viene portato in città tra ali di persone per tutta la città un eroe un funerale che viene dedicato agli eroi e per questi 30 giorni si svolge al trigesimo una manifestazione enorme con contributi politici economici della città che viene potete ritrovare in un libricino che sicuramente la famiglia ma le trovate anche alla Palatina noi le abbiamo trovato là non siamo andati a disturbare dove trovate tutte le orazioni fubere in merito tutta la città a qualunque livello di persona sportiva non sportiva quindi 16 settembre 2024 non facciamo mai niente caso cerchiamo di non fare niente inaugurazione della mostra Palazzo del Governatore facciamo le mostre sempre lì perché in Piazza Garibaldi uno spazio a volte un po' problematico per fare mostre però anche le altre insomma sono state apprezzate quindi ce la faremo anche questa volta a trovare qualcosa di buono il primo piano Palazzo del Governatore rimane aperto due mesi gratuito gratuito anche per le scuole avremo delle cooperative che ci aiutano quelle che portano in giro a spiegare la mostra quindi potrei essere accompagnata e speriamo che vi piaccia io vi faccio vedere sono un piccolo anteprima quindi vedete un po' di stimoli e poi ci vediamo alla mostra in questo senso come per il libro noi partiamo dalla città ogni architettura ogni edificio ogni infrastruttura va letta dentro la città e bisogna ricordarsi che tipo di città è sciocco pensare anche solo le sedere con l'arco immaginatela adesso immaginate la città dell'inizio del novecento è totalmente diverso l'ambito ma soprattutto di carattere sociale la Parma di inizio del novecento è una città in grandissimo fermento in grandissima espansione dopo la ferrovia di fino ottocento la stazione arriva qua gran parte della trasformazione industriale dell'agroalimentare quello che accade a San Leonardo è una sorta di boom economico tutte le grandi nostre aziende nascono da lì nella trasformazione dei prodotti nelle conserve e quindi raccontiamo quella Parma economica infrastrutturale questa parte della città che è la più antica viene chiamata Parma Nuova perché vengono fatti un sacco di lavori pubblici il lungo Parma i bagni pubblici le infrastrutture le scuole la Coccone è una città che si sta arricchendo non so come dire e prevale questa società borghese che prima non c'era nell'aristocrazia Luigi nel precedente e quindi c'è una intera classe di non solo di perai ma di impiegati di professionisti che prima non esistevano quel pezzo di città quel pezzo di cittadini è quella che può incominciare a praticare lo sport perché prima o il popolo o solo qualche aristocratico poteva farlo quindi si allargano tutti gli sport tutti gli sport sono di quel periodo lì nascono in modo popolare in quel periodo nel praticarlo perché persone possano avere il tempo di praticarlo ma anche nel popolo che diventa tifoso che diventa perché non c'erano prima nessuno vedeva gli sport ed è in tante discipline che in quegli anni il ciclismo che è il più popolare qua vedete alcune immagini di questa parma le piscine quindi molti impianti sportivi la figura di Nio Tardini ha una sua parte centrale perché come veniva ricordato prima mette insieme le sue doti economiche e umane per riuscire a mettere insieme un'operazione che è difficile perché non era il presidente dello sport più popolare il calcio non era lo sport più popolare erano altri qua vedete riforme la posa della prima prietra guardate i funerali cioè raccontiamo un po' la storia di Nio Tardini che riesce a trovare la quadra la quadra occorre molto denaro molto più di quello di cui lui dispone col farmacalcio e per far questo mette insieme gli sport non poco cioè si mette insieme coordina i ciclisti coordina i tennisti i riglisti l'atletica pesante l'atletica leggera cioè li mette insieme tutti perché c'è da fare una cosa grande insomma immaginate per quella città cos'era lo stesso spazio cioè i muri che vede d'attorno sono rimasti intonsi e quindi fa un parco privato perché non è pubblico diventa pubblico lo dico anche in merito al dibattito attuale cioè noi diamo queste informazioni non prendiamo posizione diamo informazioni ognuno poi si farà ma non è una novità che c'è un rapporto pubblico privato nello sport cioè il comune lo acquista nel 1930 durante il fascismo e infatti gli cambia nome lo chiamava Walter Branche che fa dell'altro mette insieme tutti questi sport e fa questo parco dello sport è un po' forse lo vedete poco in quell'immagine là ci sarà molto più in mezzo agli edifici anche questa è una cosa che pochi sapevano ma insomma il dibattito non c'erano gli edifici sono nati dopo però viene progettato attorniato dagli edifici ma tutte informazioni che di cui potete disporre viene fatto un concorso nazionale quindi anche qua è l'idea non provinciale di Tardini del gruppo cioè cercavano un progetto diremmo oggi internazionale in realtà nazionale ma insomma ma i progetti non sono soddisfacenti e quindi ecco guardate quei quadretti che vedete a fianco è la lottizzazione in cui noi siamo quindi era tutto lottizzato per fare caso e in Tardini praticamente se ne fa dare una parte che è questa qua quella rossa che vedete dove dentro viene fatto il parco anche economicamente pensate che quei lotti che si sono tolti di qua vengono fatti in via sul ferino guadagnando anche per il realizzatore quindi ma bisogna trovarle così le quadre si trova in modo perché anche il proprietario che era società immobiliare parmese dovesse avere i propri utili in via sul ferino c'era il campo del calcio del parma che poi era migrato di tre pro oppi ma qua altri sanno queste cose proprio in via sul ferino c'era l'ex campo di Marte dove il parma giocava ma in modo ghiaioso non so come dire era sul fiume e poi si sono trasferiti all'ex Aridani avevano già acquistato questa utilizzazione poi viene questa occasione si parte tutti per questa impresa questo è il progetto di un parco urbano con laghetti con vea in cui la gente poteva andare a passeggiare con i campi da tennis ho usato un termine in un'intervista forse non bellissima però è l'idea che ho dello zoo cioè quando andate in un zoo tipo a Roma voi entrate da un ingresso come questo poi la gente gira e vede dentro le gabbie ecco la gente poteva girare e vedere due tennisti giocare a tennis due giocare a calcio ma era un'assoluta novità perché nessuno aveva mai visto persone battersi nel tennis o fare le corsi di atleti quindi era molto attrattivo per la cittadinanza che non conosceva questi sport il progetto invece viene dato a Ettore Leoni quindi vengono scartati i progetti del concorso e Ettore Leoni fa un progetto d'architetto dico da parmigiano cioè lo imposta tutto sul casinetto e il pedito quello che vedete è l'asse su cui tutto il progetto viene focalizzato da qualunque parte noi siamo certe cose non c'erano ovviamente si vede il casinetto e il pedito che fa da controingresso lo progetto è tutto direzionato e quindi l'incambi progetti il progetto viene presentato per tre volte per tre volte bocciato quindi è una storia il dibattito su un'infrastruttura così importante normale che ci sia perché è una cosa grande della città i modi magari potrebbero essere anche più eleganti magari ma fatto sta che è normale che ci sia una proposta una controproposta e si trovi poi la quadra a male nei tempi e nei modi più utili non c'era la tribuna alla fine c'era solo il recinto questo grande ingresso e il campo e poi viene fatto il resto la tribuna viene fatta successivamente una l'altra e quindi raccontiamo poi tutte le trasformazioni che sono avvenute alcune delle quali anche voi le ricorderete io venivo al Parma quando c'erano i tre gradini di cui faremo un pezzettino dentro la mostra ma ci sono persone viventi che l'hanno visto senza anche i tre gradini è un'evoluzione continua dei tre gradini poi il calcio prevale negli sport ad agio ad agio il calcio è quello che raccoglie più persone quindi anni 30 anni 40 anni 50 facciamo delle sezioni specifiche dove facciamo vedere le trasformazioni la più evidente sono le tribune si passa le tre gradine delle tribune tubi innocenti assi con i morsetti ve ne ricordate tutte siamo negli anni 70 e poi arrivano le tribune in cemento poi arrivano fino ai seggiolini attuali dove raccontiamo ad esempio il fatto che oggi questi seggiolini quelli rotti eccetera vengono risborriciolati e riciclati sono informazioni che molti non conoscono quindi c'è del recycle anche dentro l'attività ma facciamo vedere anche i progetti esterni alla città questo dibattito dentro fuori c'è sempre stato negli anni 70 viene fatto un progetto fuori dalla città all'entefiera negli anni 80 viene fatto un altro progetto per metterlo a moletola però viene cioè oggi no è stato in questi anni è stato presentato un progetto alternativo facciamo vedere tutto quanto quello che credo vi lascerà stupito è che l'attualità era così 20 anni fa 50 anni fa c'è la società poi non è così cambiata quindi i modi che ha per emancipare questi grandi progetti sono molto simili troverete molte similitudini ovviamente non poteva mancare gli eroi del calcio ci sarà una parte dedicata ringraziamo il parma calcio ci ha detto ci mette a disposizione un po' di gadget un po' di cose noi elencheremo in un muro i 10 uno per decennio i presidenti più importanti gli allenatori più importanti i giocatori più importanti ma anche molte interviste fatte no? e quindi come volute c'è una parte molto ampia di Cattie Golini che è un'altra delle collaboratrici di Gazzetta responsabile delle pagine culturali che ha fatto sull'anfiteatro no? cioè quanti eventi sono stati fatti in questa manifestazioni politiche culturali grandi ospiti ma anche grandi concerti ma anche grandi feste delle feste delle matricole a feste più importanti un'altra sezione parla di tutti questi sport qua hanno giocato gli Harlem Globetrotter hanno il rugby il ciclismo no? metteremo delle cose come Vittoria Dorni le biciclette i grandi cantanti Claudio Baglioni Edoardo Bennato cioè ce n'è per tutti insomma fino ad arrivare al progetto del nuovo stadio che è il futuro ma soprattutto che ovviamente verrà poi diffuso il definitivo non l'ho ancora visto ma so che è tra la società e il comune quando poi avevamo finito speriamo di poterlo mettere in mostra perché non è a me disponibile abbiamo messo il preliminare quello che era pubblicamente disponibile e quindi il progetto del nuovo stadio ma soprattutto ci interessava mettere in evidenza le relazioni di questo stadio con gli altri cioè spesso è talmente unico come architettura che uno pensa di avere come dire o l'oggetto più bello del mondo più grande del mondo oppure in centro oppure fuori gli altri cosa fanno serve sempre il confronto lo facciamo con la chimica o con la fisica noi abbiamo bisogno della prova e di provare queste cose rispetto al resto e quindi abbiamo una carrellata di stadio italiani europei ed internazionali che la vedrete relazionati alla città dove sono collocati quanto è grande lo stadio e quanta grande la città perché c'è una relazione ovviamente tra dimensione dello stadio e quindi ognuno potrà fare i confronti e vedere molti stadi realizzati la cosa che mi prevedere è che nella mostra non ci saranno solo molte più immagini e poco testo ma ci saranno molti oggetti e questi so che piacciono che è venuta la mostra di capannoni avrà visto costruire un capannoni intero in scala naturale che ha stupito tutti perché uno poteva vedere come si andava a letto come si mangiava dentro un capannone anche questa mostra non ve le svelo tutte però ci saranno molti oggetti molte cose tattili da toccare da vedere che la saranno un po' stupiti per la dimensione perché stiamo parlando di cose di una certa dimensione a partire da un plastico particolare che stiamo congeniando per farvi vedere in modo materiale il primo il dopo contemporaneamente ma questa è la verità della mostra o tante altre cose che speriamo vi possano piacere dico solo che la mostra inizierà con Giuseppe Verdi vedete cosa c'entra Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi di More nel 1915 1901 Bernardo Bertolucci ha già detto questa cosa quindi non siamo i primi Bernardo Bertolucci apre il 1900 con Rigoletto che dite le morte perché è l'inizio del nuovo secolo e soprattutto perché il monumento a Verdi è coevo al Tardini viene inaugurato nel 1920 il Tardini nel 1924 sono due architetti che si conoscono si confrontano e quindi ho avuto la certezza ieri ma avremo al plastico anche del monumento Verdi che forse pochi di voi avranno visto guardando là però io sono così e sono molto non è ne preparato niente noi metteremo molte cose ad esempio su PPC abbiamo trovato voi lo sapete già ma non so quanti sapessero che è l'unica società in Italia che ha questo partner aliato pubblico per noi è una cosa molto importante che metteremo fuori è una caratteristica della nostra città così come siamo in relazione col coordinamento boys coordinamento tifosi per fare la mappa di tutti i club che ci sono nel mondo che io vengo al Palma da un po' non sapevo cioè c'è una ecco queste informazioni che fanno capire quanto ogni cosa che si fa in città e quelle importanti ancora di più tocchino alle persone parliamo del passato ma per parlare di futuro non siamo dei collezionisti cioè ogni cosa che trovare del passato ha una relazione con quello che accadrà e quindi non ultimo Agno Tardini mentre guardavo prima però non so se potrò ma ci pensiamo mi piaceva avere una foto del nuovo Agno Tardini dopo cento anni metterlo all'inizio la foto di suo bisnonno e alla fine nel mostro il nuovo Agno Tardini perché la cosa mi ha toccato quando mi ha fatto la presentazione e non so se è corretto perché è un minore però se voi mi autorizzate mi piacerebbe fare questo collegamento perché il fatto che c'è un Agno Tardini cent'anni fa e il fatto che uno è lì a me tocca parecchio quindi ecco persone cioè non solo muri cemento armato eccetera ma persone questo è quello che vogliamo far passare attraverso gli studi che facciamo grazie quadro come sempre perfetto esauriente ma ti volevo fare un ultimo assist dicendo poi che se qualcuno è degli amici di Parma partecipazione calcistica ancora grazie a Paolo e a tutti voi per averci invitato avrà delle domande naturalmente siamo qui il quadro che hai fatto è perfetto due piccole cose che puntualizzerei uno che oltre agli oggetti alle foto all'architettura della mostra sarà molto d'impatto la mostra vivrà anche grazie a una serie di incontri che sono già stati programmati per portare tanta gente e poi che per ultimo invece l'assist è chiaro che la mostra ha dei costi con la premessa che i cui presenti non è previsto nessun gettone e ci mancherebbe altro però noi presentiamo questa iniziativa anche per dire questo vale anche naturalmente per i soci di PPC che se qualcuno vorrà dare un contributo sarà ben accetto magari Paolo spieghi meglio il come per la prima scusa e anche il fatto che non sono richieste per la prima cosa le mostre è capitato così anche per le altre ormai sono 30 anni che facciamo libri e mostre quindi ogni settimana ci sarà un incontro all'auditorio Mattioli cioè a fianco al palazzo del governatore sapete che a quel piano c'è un auditorio che tiene 120 persone ogni settimana ci sarà un incontro su temi diversi non solo quindi ovviamente legati all'evento ne cito solo due la moda cioè l'attività sportiva dietro tutto un mondo di moda e sono stati creativi che hanno disegnato magliette che hanno disegnato sport quindi faremo un dibattito sulla moda e nello sport ma ne faremo un altro sulla parte diciamo culturale ogni settimana ci sarà un incontro uno su come è cambiato il tifo cioè abbiamo delle immagini che vedrete in mostra ma lo sapete anche voi insomma vedere quelle cento persone in giacca, cravatta cappello attorno alla rete e non c'era neanche la rete e vederlo oggi c'è il numero il modi e quindi avremo abbiamo già contattato testimonial di questi mutamenti perché sono mutamenti che accompagnano la società che di genere non sono né da osteggiare né da incensare sono la fotografia della società che man mano cammini insieme agli stagli la parte economica perché c'è anche quella abbiamo contattato ovviamente una serie di it per sostenere questa iniziativa perché non ne prendiamo ma non vorremmo neanche mettercene noi troppi e di conseguenza che hanno già in parte garantito però come per il vostro caso il crowdfunding è vuol dire noi abbiamo preparato una fotocoppia che distribuiamo in questi incontri perché chi ha una ditta chi ha una società chi vuole in qualche modo manifestare che ovviamente andrà nei banner di pubblicità che uscirà al palazzo governatore nei manifesti in giro dare il contributo è ben accetto perché dobbiamo raggiungere la cifra necessaria per le spese di questa mostra quindi abbiamo preparato una fotocoppia che non so se la possiamo distribuire se qualcuno o personalmente o perché ha amici ditte interessate a sostenere questa iniziativa può farlo e li trova oltre alla spiegazione sintetica di quello che ho detto anche dove rivolgersi per fare un bonifico necessario al sostentamento se uno è in forma privata lo può fare privatamente se uno lo vuole fare in forma pubblicistica è spiegato come fare ci invia il logo e noi ringraziamo moltissimo ne vedo già qualcuno qua dietro a cui ho già parlato per poter sostenere questa iniziativa che avrà il patrocino del comune ha un interessamento ovviamente anche del parma calcio ma come mostra così come il libro non ha la realizzazione né dell'uno né dell'altro perché voleva essere terzo in tutti i sensi e quindi grazie oltre ai presenti se potete comunicarlo per aiutarci a realizzare questo evento io posso fare una domanda due portando un cerco di tennis che vi parla come ci sono 5 o 6 ma come faceva un uomo 110 anni fa a immaginare un centro sportivo di sport che ancora magari non esiste che per me è una cosa di una genialità incredibile era avanti di 5 anni da 100 anni rispetto ai tempi ha pensato qualcosa per i carniciari nei prossimi 100 anni ma come faceva per me Lottadini è un genio noi lo conosciamo come stadio ma aver pensato 110 anni fa qualcosa che chiedesse spazio di sport della città e a tutti gli sport non è qualcosa di fantastico una persona secondo me ha degli aspetti che purtroppo non ha potuto neanche visto la breve vita forse sviluppare però sarebbe stata una risorsa per farla incredibile sotto tanti punti di vista una domanda che faccio a Mario e anche a Vito hai perfettamente ragione ma in tutte le sue cose aveva questa visione avvineristica pensate ai magazzini frigoriferi sono stati uno dei primi nel nord Italia quindi lo stadio è il quarto più anziano d'Italia quindi porta Parma diciamo all'avanguardia rispetto ad altre realtà ben più grandi ben più importanti quindi assolutamente sì io purtroppo nessuno di voi ha avuto la fortuna di conoscerlo perché è mancato a solo i 44 anni mio papà Armando aveva due anni nostra zia Enia Caterina sarebbe nata un mese dopo la sua scomparsa quindi purtroppo quello che noi sappiamo del nonno è quello che abbiamo letto come ricordava Paolo anche nel libro che è stato fatto per il tredesimo della scomparsa con i contributi di amici e avversari politici e avversari politici e avversari politici assolutamente sì e lui ha avuto rispetto da parte di tutti quanti perché lo ripeto è stata una persona con una creatività che non era fine a se stessa ma coniugava la creatività con la realizzazione di quello che pensava e aggiungo solo proprio a corroborare questo che Mario ha ricordato e sull'importanza che ha avuto non solo nel tredesimo è stata fatta una pubblicazione per raccogliere tutte le orazioni funebre ricordi e testimonianze tra l'altro una delle più sentite guardo l'avvocato Scotti perché è appunto quella di un certo avvocato Scotti professor Scotti ma anche la gazzetta che io ho studiato insieme ai documenti che ha avuto della famiglia Tardini per questo breve messaggio che ho scritto per settimane e settimane la gazzetta allora ha fatto di 2 o 4 pagine non delle 64 di oggi dedicava una o due pagine tutte a ricordi di Ennio Tardini e questo per settimane e settimane dopo la morte cioè una cosa che dà un'idea anche vaga dell'importanza che ha avuto e del segno che ha lasciato pur vivendo appunto solo 44 anni mi hai dato un assist perché hai ricordato l'articolo che aveva fatto sulla gazzetta nel tredicesimo Arturo Scotti e se mi consentite vi leggo l'inizio di questo articolo che ti dà un'idea di chi era il nonno l'avvocato Ennio Tardini è morto povero egli passò attraverso i milioni senza nemmeno vederli egli fu così costituzionalmente onesto che forse neanche comprese la possibilità di arricchirsi egli non volle arricchirsi nemmeno onestamente qualcuna altra domanda? se non c'è nessuna lo ringraziamo grazie grazie a tutti grazie a voi grazie a tutti 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 grazie a tutti